VIVA BABAPETITO VIVA BABAPETITO VIVA BABAPETITO VIVA BABAPETITO Auspico in particolare che cessino le violenze tribali, che causano purtroppo molte vittime, non permettono di vivere in pace e ostacolano lo sviluppo. Faccio pertanto appello al senso di responsabilità di tutti, affinché si interrompa la spirale di violenza e si imbocchi, invece, risolutamente la via che conduce a una fruttuosa collaborazione a vantaggio dell'interno popolo del Paese. Nel clima generato da questi atteggiamenti potrà trovare un assetto definitivo anche la questione dello statuo dell'isola di Bugavin, evitando riaccendersi di antiche tensioni. Pagano Pagano Grazie.